Il Parlamento europeo vota sulla possibile revoca dell'immunità dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont. Il risultato verrà svelato martedì mattina e risponde ad una richiesta della giustizia spagnola che intende processarlo per il suo coinvolgimento nel referendum per l'indipendenza della regione. È probabile che l'Eurocamera approvi la decisione, ma il leader indipendentista ha già annunciato che continuerà a combattere. Combatteremo fino all'ultimo minuto al Parlamento europeo e ricorreremo alla Corte europea di giustizia se necessario, arriveremo fino in fondo. Gli eurodeputati voteranno anche sull'immunità di altri due politici indipendentisti, Tony Comin e Clara Ponsatì, anche loro eletti nel 2019. Anche se dovessero perdere l'immunità continueranno a far parte del Parlamento europeo, ma la decisione potrebbe aprire la strada alla loro estradizione in Spagna. C'è però un precedente che gioca al loro favore. Di recente la giustizia belga ha respinto l'estradizione di un altro leader catalano fuggito in Belgio, Luis Puig.